La legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto esportivo e dell'avioturismo ha fatto un altro passo avanti ed alcune delle iniziative proposte al suo interno cominciano a prendere forma. Si è svolto infatti nei giorni scorsi presso l'aeroporto di Lugo di Romagna un incontro a cui erano presenti l'assessore al turismo dell'Emilia-Romagna Andrea Corsini, il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il vice sindaco Pasquale Montalti e i senatori Luca Brizziarelli, Stefano Collina e Maurizio Campari per presentare le potenzialità di questo progetto legislativo e per creare le condizioni affinché Lugo di Romagna possa diventare una delle città protagoniste della costituenda associazione Città dell'Aria. L'incontro è poi continuato con un approfondimento sugli aspetti tecnici del disegno di legge relativi ad aviosuperfici e campi di volo, con il presidente dell'aeroclub di Lugo Oriano Callegati e il vice presidente generale Marco Buscaroli, dei presidenti di avio portolano Guido Medici, di piloti di classe Silvano Teodorani e dell'associazione Fly Europe TV Roberto Vecchi. Il disegno di legge, nato nel 2019 da un'iniziativa del senatore Luca Brizziarelli, ha poi coinvolto numerose figure dello scenario politico, creando pian piano una trasversalità fra tutto l'arco costituzionale, a dimostrazione che il volo non ha colori né padrini. Alle iniziative proposte ha già aderito la regione Umbria e l'auspicio è che anche l'Emilia Romagna, vista la ricchezza di aeroporti, aviosuperfici e campi di volo, possa essere la prima del Nord Italia a sposare questa iniziativa legislativa, ormai indirittura d'arrivo e pronta a dare le risposte che centinaia di migliaia di persone coinvolte attendono da decenni. Si è trattato di un incontro che ha contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto questo settore sia strategico per il turismo, l'industria, la formazione, per la moltitudine di attività sportive, ricreative e ricettive correlate e per garantire ai territori spazi e servizi civili e sociali di vitale importanza anche in caso di necessità. Nelle interviste ascoltiamo alcuni dei protagonisti dell'incontro. Oltre che la visita a una struttura importante come quella dell'aeroporto Francesco Baracca ha un confronto sia con l'amministrazione comunale di Lugo che ha manifestato la disponibilità a prendere in considerazione l'ingresso nella neocostituenda associazione città dell'aria sia un confronto con la regione Emilia Romagna che ha manifestato un'attenzione e un interesse nei confronti di un mondo che rappresenta anche un possibile volano sul piano turistico economico per le aree che accolgono strutture come queste che sono diffuse a livello nazionale ma che vedono in Emilia Romagna decine e decine di avie superfici e aeroporti minori presenti. Notevole l'interesse che è stato manifestato sia dal sindaco sia dall'assessore regionale Corsini, assessore al turismo che ovviamente si è reso conto di quale portata abbia in termini di indotto una realtà come questa e come le altre presenti nel suo territorio. Noi auspichiamo che con il nuovo ministro al turismo l'onorevole Garavaglia sia possibile valorizzare un patrimonio importante che può rappresentare anche un'attrazione notevole a livello europeo in termini di indotto e di turismo. Sicuramente la struttura di Lugo è una struttura all'avanguardia non solo come servizi offerti ai soci ma soprattutto per la visione e la capacità di investire anche con velivoli propri, l'investimento che c'è stato sul simulatore, importante anche la collaborazione dell'Aeroclub con il Ministero dell'Interno per quanto riguarda la possibilità di procedere all'addestramento dei piloti. Sicuramente fondamentale è la capacità di visione che va al di là della passione che unisce i soci ma anche alle relazioni e alle possibilità di creare sinergie con le istituzioni, con lo Stato e con tutto il tessuto economico e sociale. Noi da sempre abbiamo dato un grande peso a argomenti come questo, settori seppur di nicchia ma non minoritari, molto importanti per il turismo e per lo sviluppo dei territori. Se noi pensiamo a quello che può portare l'avioturismo sul territorio si apre un mondo. Pensiamo solamente al fatto di riuscire ad accoppiare a queste strutture dei servizi quali possono essere per esempio il pernottamento, la ristorazione, il noleggio di auto piuttosto che si parla delle ciclovie, magari di biciclette o altre cose. Io credo che sia una risorsa da andare a sfruttare e sviluppare. L'Aeroclub di Lugo è una struttura che è nata a fine degli anni 50, ha continuato a svilupparsi fino ai giorni nostri con l'acquisizione della Scuola Nazionale Elicotteri e ultimamente con un simulatore di ultima generazione che consente l'addestramento a vigili del fuoco piuttosto che a corpi dello Stato anche di altri Stati. L'Aeroporto di Lugo è una struttura che ha a disposizione un po' di tutto il territorio. Noi siamo in prima fila quando c'è da fare qualche cosa per la protezione civile piuttosto che per la Croce Rossa, quando c'è da organizzare anche una gara al di fuori di quello che è la gara aeronautica. Qui abbiamo ospitato i campionati regionali di ciclocross proprio qualche giorno fa e soprattutto è un qualche cosa che è a disposizione della cittadinanza. Siamo ben felici di ospitare oggi questo incontro che spero stimoli le autorità locali, gli enti locali a farsi partecipe, ad accollarsi un pochettino quelli che sono i nostri problemi, un po' di tutti gli aeroclub e un po' di tutti anche gli aeroporti minori. Queste strutture rappresentano anche un'opportunità sia sul piano sociale, culturale ed economico ma anche di protezione civile. Bene ricordarlo quando dovesse essere necessario, ovviamente le avie superficie e gli aeroporti costituiscono anche un punto fondamentale in termini di protezione civile. Il prossimo passo ora è sicuramente quello di accelerare il percorso che auspicabilmente possa portare all'approvazione della legge in Senato prima dell'estate perché poi passi alla Camera e nel frattempo lavorare ai rapporti sul piano istituzionale sia con i comuni e con le regioni che con i gestori e gli aeroclub. Ovviamente la Costituzione con il governo Draghi di un ministero con portafogli dedicato al turismo renderà questo percorso più celere e sicuramente più proficuo. Grazie a tutti.